dissing ad allegri ieri avete assistito al dissing ad un bare palermo perché quando uno si deve autocriticare si deve autocriticare ora io bare palermo faccio il dissing anche roberto palermo mi aiuti anche roberto palermo mi aiuteranno a fare il dissing ad allegri quindi siamo due contro uno l'unione fa la forza ma prima di fare il dissing ma di quelli proprio che sono incazzato nero a questo minnesota a questo acciughina a questo sole sicche a questo lupen quinto anzi lupen 9 lupen 9 lupen 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 9 milioni di rubi lupen lupen questo sì che lupen io sono lupen dellupen però vediamo cosa dice ascoltate amici miei sentiamo affrontiamo questo percorso di poter tornare a giocare la champions l'anno prossimo e quindi domani è il derby e quindi domani ci bisognerà essere tutti pronti mentalmente fisicamente e tecnicamente e manca chiese vlog giornalista educato se non è un po preoccupato da questa catena di infortuni muscolari arrogante catena o della calma perché se no serie no due anni che manca un anno come tutta la tournera va saltata poi tornato mamma mia che schifo problemi muscolari come? vediamo quello che ci dicono bravo che c'è un problema muscolare? no allora sono già due chiesa? che chiesa? chiesa l'ho spiegato prima forse no forse dobbiamo tornare a scuola a imparare l'italiano arrogante sei no lo capisci tu guarda sembra a coppa degli altri ho mai stato critico questo guarda ti sto dicendo che chiesa dalla risonanza non ha niente sta mai a dolore abbiamo parlato si trovi un giocatore che è preoccupato non lo faccio la coppa è sempre tua guarda che schifo no schiena popagia ah solo Alessandro? solo Alessandro? le cartiline sono con la bicicletta le marrite fai schifo no un anno fa la vedriana che sei lì tu ti rotti sembra mannaggia la domanda è giusta bravo hai fatto la domanda giusta bravo che schifo guarda sei arrogante ha un altro gioco bravo in dieci andiamo in campo in dieci? si come no allora ragazzi io sarò singero ma molto singero come si dice per me aspetta che mi metto da questa parte per me quello lì è alla frutta è una persona fuori controllo è una persona fuori controllo tu fai schifo noi venirei arrobati siamo infortunati oh ora ditemi ditemi chiese e vlausi quindi sarebbe seconda punta e prima punta giusto? giusto giusto ma la cosa ma avete visto mai dalle altre squadre? andiamo alle altre squadre perché uno fa lo fa o paracole per forza hai visto mai hai visto mai caramelle o simenze tutti due infortunati in un coppo solo? mai hai visto mai il lucazzo e la toro martinez con l'indie infortunati? mai hai visto mai di bala e il lucazzo tutti infortunati? mai e chi li hanno i peri di cristallo soprattutto di bala guarda tutti li attaccano tutti hai visto mai il girù delle auto tutti i tuoi mancanti? mai quindi dimmi questo dimmi questo io questo se ero io giornalista ci dicevo questo ti devi autocriticare come fa un pare palermo con youtube ora sei tu che ti devi criticare tu dici guarda lascia la juventus non sono il problema sono io vado via faresti più bella figura faresti più bella figura guarda guarda comunque ragazzi ora guarda lo scherzo io veramente sono incazzato oggi una persona di un'arroganza schifosa io non lo so guarda darei come si dice qualsiasi cosa qualsiasi cosa per sapere come questo è il protesto questo allenatore è protetto proprio è protetto è protetto dalla stampa ci dice una domanda subito ora come giornalista non può più entrare a fare i conferi di stampa è protetto dalla stampa è protetto dai media è protetto dalla società quello va cacciato subito è la rovina è la rovina della mia gloriosa juventus questa è la juventus ma se c'era l'avvocato vivo Agnelli sai come ti cacciava subito via vado io ho figlio perché ha sbagliato ho figlio ha sbagliato ho figlio la ho pro nipote ha sbagliato guarda hai sempre sbagliato Agnelli guarda se mi sbaglio ha sbagliato questo stupido guarda veramente schifoso guarda quello è la prima settimana ma è arrogante arrogante stra arrogante fate schifo facevi i pronostici cambiamo oggi due in uno allegri ora fareò guferò che te ne andrei prima di Natale prima di Natale devi andare speriamo comunque facciamo i pronostici ragazzi oggi venerdì 6 ottobre anche sono qua comunque quindi dissi a Natale che ce l'ho fatto ho testa di minchia guarda mi fai vedere pure ma tu schifiato guarda picciotti clese e vauci clese e vauci mamma mia no non ho avuto mai fortunati poco va chiesa vaulec una volta a bremo una volta a danilo una volta a rugare una volta a bonucci una volta a chedira tutti i fortunati poco va rames e ben d'acu tutti i fortunati sempre infortunati con lui abbiamo avuto un sacchino di fortunati chiellini bazza buffo tutti i fortunati e penso con lui abbiamo avuto sempre infortunati sempre infortunati sempre infortunati ma perché non dice queste cose guarda anche nella storia non solo sia un anno fa non solo nella storia ma pure ore guarda a tene comunque ragazzi parliamo partite siamo l'ottava giornata l'ottava giornata di Serie A hai a fare due viti in uno perché in effetti già sette minuti ti dissi questo menomato guarda perché io dico menomato ma pure tu sei menomato tu sei più ancora più menomato di me guarda più menomato di me comunque ragazzi facciamo i pronostici aspetta i partiti sono allora aspetta un attimo venerdì stasera 15 Embrudinese e Lecce Sassuolo e non li giochiamo venerdì è troppo presto e poi sono già scolli quasi salvezza quasi salvezza se volevo lì ci si salva ma quelli due non mi piacciono però se sei vuole giocare giocherei Embrudinese X2 e Lecce Sassuolo di 1X una bolletta oggi la bolletta del venerdì la faccio a parte e ora quella che conta Inter Bologna ore 3 sabato l'Inter ha giocato ha vinto con il Benfica il Borno ha giocato l'Inter è stanca però sappiamo che è attrezzata per fare ambito e fronti quindi dico quindi dico Inter Bologna 3 a 1 va bene statisticamente questa partita da due anni che finisce 6 a 1 in casa per l'Inter o Bologna 6 a 1 due anni di seguito ha vinto 6 a 1 guarda caso quindi accorciamo un po' i tempi quindi dico diciamo 3 a 1 va bene Lautaro Turam 3 a 1 1 andiamo avanti ore 18 Juventus Torino che è una partita tra l'altro che non posso manco guardare perché devo andare purtroppo a prendere a Pisa mia cognata che viene dall'America la guarderò via radio quindi non la guarderò però appena arrivo devo fare subito video per forza Juventus Torino ragazzi ragazzi ho preso io la male chi non dice se mi chiene un pianisteo Juventus è bravo Torino difficile ci manca giustamente chi ne fotte Vlaulic c'è chiesa e quindi ditemi come finirà Torino volendo sembra una signora squadra apparecita con Verona in turno di feste di malare guarda ci metto 1x ma perché sono Juventino 1x va bene poi domani parleremo di Torino perché all'altro punto metti UEA e Ken Ken e UEA Ken e UEA metti domani parleremo di questa cosa qui quindi io dico godi Ken finirà 1 a 0 è così finita ragazzi 1 a 0 2 a 1 1x va bene poi domenica 8 ottobre Monza Sanitana 2 e 30 altra volta mi ha aiutato in Bologna con l'embo questa volta il Monza lo vedo molto favorito ha una cosa che mi piace 1 e 66 1 Monza Sanitana 1 via 18 Cagliari Roma Cagliari Roma Lucazzo segna con le piccole squadre il topo pree dei piccoli ecco posso dire così Lucazzo dei topo pree dei piccoli no dei topo pree con l'originale no segna con l'Empoli segna con cosa con servette segna con cosinone ecco Cagliari può segnare l'ultima classifica quindi dico Cagliari 1 Roma 2 Di Bala Lucazzo 2 fisso una bella quota 1.83 mi piace e poi per finire Napoli Fiorentina alle 20 e 45 io dico dunque Fiorentina in questi anni ha cagato il cazzo un po' in Napoli non lo scusa ha vinto però l'ultimi due anni una volta ci vince in Coppa Italia 5 a 2 e una volta in campionato 2 a 4 quindi sai l'italiano ha rotto un pochettino diciamo il come si chiama la Napoli è un'altra squadra dopo Alazzo a Fiorentina si è messato un pochettino sulle caccagne del Napoli quindi io dico stavolta vince di nuovo il Napoli dico 3 a 1 anche perché Fiorentina ha perso con la fucia la fucia le cazzo l'ha perso in Europa lì che è stanca il Napoli ha perso a stavolta con le ammarite però si deve rifare in campionato no? quindi Napoli Fiorentina dico 3 a 1 1 fisso quindi ricapitolando 5 partite la quota è 8 volte la posta va bene? dico Inde Bologna 1 Juventus Torino 1 Monza 1 Cagliere Roma 2 Napoli Fiorentina 1 anzi no scusate Juventus Torino ho detto 1x va bene? quindi ripacitolando Inde 1 Juve Torino 1x Monza Sanitana 1 Cagliere Roma 2 Napoli Fiorentina 1 8 volte la posta qua c'è il mio gufendus ragazzi per finire 12 minuti va bene per finire gufo guferò che cara lei che te ne andai proprio a gennaio non ti mancerai il panettone guferò per questo ma è una persona arrogante una persona alla frutta cioè tu fai il tuo lavoro gli giornalisti devono fare il tuo lettore come mai questi infortuni come mai no perché lo capito lui sa che il problema è suo con tutto il suo staff perché è impossibile che le Juventus ha sempre infortuni non c'è stato mai in serie A che io ho fatto l'esempio degli altri squadre che mancano allora manca Turam ora quest'anno è mancato Turam e l'agio e l'autaro no è mancato Simile Caramella no è mancato Giru e l'autaro no queste già vado nelle prime squadre non vado proprio sotto ma se no hai sa dire tutto cioè non c'è stata una squadra che mancano due attaccanti di seguito mai mai qui la colpa di chi è no sempre sfottune sempre sfottune è sfottunato ma guarda sfottunato la colpa è sua con il provatore a 13 va bene a 100% a 100% è sua sì è sua la colpa anche perché non si spiega perché dall'altra parte un sono mai infortunato l'altra parte ma è infortunato ascolta a me vuoi venire con Torino metti Ken e UEA Ken e UEA i due attaccanti i due cioccolatini va bene ragazzi vi saluto disse che da lei ci sta perché ormai questo allenatore ci ha fatto uscire fuori dal cervello ciao 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 Grazie a tutti.